Allora, il primo CNA Lombardia, ma il primo proprio in assoluto per il nostro spin off, che è una società che nasce tre anni fa da un'idea un po' particolare. Noi siamo commercianti di materiale per l'edilizia e qualche tempo fa abbiamo pensato di utilizzare il tondino d'armatura in una maniera differente rispetto all'impiego abituale, valorizzando le caratteristiche meccaniche di questo materiale, il rapporto prezzo e caratteristiche che è estremamente interessante. E quindi in questi tre anni abbiamo fatto della sperimentazione mettendo appunto una ventina e più di modelli e pensavamo di essere pronti finalmente per cominciare a uscire allo scoperto. Quindi questa è proprio la prima occasione. Diciamo che le associazioni in generale sono delle forme in cui credo. Ecco, noi ad esempio in Ticino facciamo parte di alcune associazioni. È un modo di potersi confrontare con operatori dello stesso settore. È chiaro che in questo ambito noi ci muoviamo in un contesto decisamente nuovo per noi, con logiche completamente differenti rispetto al commercio nostro, le materiali di costruzione. Per cui nelle associazioni c'è sicuramente molto da imparare, bisogna avere anche il tempo per seguire le cose come si deve, ma le opportunità nascono dalle associazioni senz'altro. La maggior ragione è se poi ci si muove in contesti un po' da neofiti come nel nostro caso insomma.